Gianni U dice, c'è una crisi galoppante a Gela in merito alla chiusura dello stabilimento. Ci sono mogli di ex operai del rindotto che piangono, una disperazione totale purtroppo, le chiedo. Ma Gela non potrebbe vivere in alternativa proprio alla chiusura dell'industria di arte, considerato che a Gela abbiamo un patrimonio archeologico di inestimabile valore? Il terziario a Gela potrebbe decollare paradossalmente perché i tesori della città, quale i palazzi storici, per esempio il Regina Margherito o il Pignatelli, per essere pratici, anziché essere delle strutture recettive per le associazioni di no profit. Si potrebbe fare anche un programma in cui, per esempio, il modello, cito sempre, ma lo faccio da anni, quello di Vittorio Sgarbia Salemi, che ha visto dei palazzi trasformarsi in musei, con un risultato straordinario e con poco investimento, con numeri tipo 30.000 visitatori l'anno. Questo consente anche di dare al nostro museo archeologico una sorella, che può essere un museo d'arte moderna, in cui io stesso da anni dico alla politica di impegnarsi a questo progetto, ma purtroppo chi dei politici va nella poltrona, questo non lo attua mai. Vi sono anche delle logiche, mi dispiace dirlo, anche clientelari, perché purtroppo a Gela succede che molte associazioni vogliono spazi di prestigio come questi palazzi. È sbagliato detrarre economia, perché questa economia si detrarre dal momento in cui io occupo uno spazio importante che potrebbe essere il gioiello della città per un destino migliore, e quindi dal momento in cui un'associazione entra e richiede anche il contributo del Comune, è un'economia che detrae. Se questa economia noi la studiamo come dei modelli preesistenti, come in tutte le migliori città d'Italia, in cui certi palazzi sono diventati dei musei, allora si può anche cominciare a ragionare in una redistribuzione. Ecco, quindi il concetto è questo. Ecco, sostanzialmente però lei dice che la politica è sorda, Gela, non ascolta le esigenze. Purtroppo c'è un vezzo, un malcostume in cui l'amministratore spesso, io non voglio creare il capo espiatorio di nessuno, certo è che ereditiamo un sistema cangrenoso della politica e delle associazioni che chiedono spazi, è giusto che si diano gli spazi, ma è sbagliato che gli spazi siano i luoghi prestigiosi e culturali della città. Purtroppo da noi il malcostume è che l'amministratore deve necessariamente e tecnicamente entrare nelle faccende che non gli riguardano. Le competenze sono quel salvagente che invece potrebbe essere da sponda e da suggerimento circa il risultato che proprio per un settore occorre sentire tecnici ed esperti in tal senso.